Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Niente, oggi ho voluto fare, anzi ho voluto rifare l'intro di questo video perché comunque ci tenevo, anche perché in questi giorni la situazione coronavirus è un po' cambiata e dunque dato per cui, ripeto, ci tenevo, volevo precisare che il video che andrete a vedere oggi è stato girato molto 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 tempo fa. Niente, la giornata di sabato è stata dedicata interamente, anzi il pomeriggio di sabato è stato dedicato interamente alla visita del Forte di Valle Drane, si trova in provincia di Brescia, località Treviso Bresciano se non erro mentre la giornata di domenica, la giornata successiva, ci siamo fermati sempre sul lago di Idro e abbiamo visitato alcuni posti che secondo me sono caratteristici e importanti perché comunque ci tengo a questi posticini carini e niente, giornata comunque tranquilla, quella della domenica e niente, vi lascio alle riprese, spero che questo video vi possa piacere A dopo, ciao ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Della provola affumicata, pomodoro, salsa barbecue, insalata e quello che troviamo in dispensa. Wow. Da precisare 200 grammi di pagnotta. Abbiamo anche il vino stasera. L'astrone veronese. Wow. Non mi pagano per fare pubblicità. Ragazzi, buon appetito. Buongiorno. Tutto benissimo. Come va? Tutto a posto. Come? Tutto bene? Colazione in corso qua, caffettino. E via per il secondo giorno di Overland. Siamo in quel di Idro, ragazzi. Oggi stiamo valutando se fare i lazzaroni oppure andare a fare un trekking. Vedremo, vedremo. Ecco. E via per il secondo giorno di Overland. E via per il secondo giorno di Overland. Poi timprovviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare Cantare Membro dipinto di blu Felice di stare lassù E volavo, volavo felice Più in alto del sole ed ancora più su Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare Oh 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 Cantare Oh 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 Membro dipinto di blu Felice di stare lassù Ed eccoci qua finalmente, siamo ritornati al lago Siamo venuti a bagnarsi un attimo dalla calura della giornata Siamo ancora in piena estate dunque era doveroso scendere al lago perché dovevamo tastare l'acqua E niente comunque oggi abbiamo fatto una giornata mista perché un po' era ozziare e un po' trekking Abbiamo fatto il sentiero delle cascate che si trova sopra a crone di idro e attenzione attenzione a chi sei qua con noi stasera Eccolo Buonasera, buonasera a tutti Allora dove sei stato oggi te di bello invece? Sono stato sul lago di Ledro, in valle di Ledro e ho fatto una biciclettata intorno al lago completo Molto bella, molto bella Dunque, dobbiamo assolutamente provarlo Devi venire, devi venire prima che le foglie degli alberi siano cadute tutte Magari riprendere i colori autunnali sarebbe bellissimo Assolutamente, assolutamente sì Dunque magari in un prossimo video ci sarà una biciclettata, una pedalata, una cicli day Chiamiamola in tutti i modi possibili e immaginari Niente ragazzi, adesso ci guardiamo il tramonto e poi vi salutiamo A dopo Ed eccoci giunti a fine giornata, ma questa bella cosa cos'è? Dopo il bagno, Cisco si è già messo all'opera e sta già cucinando Wow, cosa bolle qua in pentola? Buonasera ragazzi, stasera stiamo facendo della pasta con un sugo di pomodorini pacchino e tonno carli Wow A lume di questa bellissima sorpresa che ho preparato Dave mentre si è assentato per mezz'oretta Per ringraziare di questo magnifico weekend e di tutti gli scorsi weekend passati insieme Grazie mille caro E niente, grazie mille a tutti della compagnia Ci vediamo il prossimo weekend con un nuovo video Ciao 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 Ciao